Dopo aver accettato poco prima di Pasqua la nomina, si è presentato ufficialmente al Comune di Salerno e ha iniziato a lavorare il nuovo assessore al bilancio dell'amministrazione del capoluogo. Dopo la rinuncia di Roberto De Luca ad essere reintegrato, il Sindaco infatti ha pensato ad un incarico tecnico per la precisione a Luigi della Greca, con delega anche allo sviluppo. È un tecnico di grandi qualità umane e professionali, ha un'esperienza importantissima, si è dato uno sguardo al suo curriculum e ve ne renderete conto, è stato oltretutto nostro ragioniere capo qui al Comune di Salerno e quindi conosce gli uomini e le cose, conosce soprattutto un ottimo rapporto con gli altri dirigenti, è una persona di assoluta e totale affidabilità. Tra l'altro è stato consigliere comunale e assessore in un Paese della nostra provincia e quindi credo che abbia anche qualche anno fa, credo che abbia anche da questo punto di vista sufficiente esperienze e sufficiente capacità per gestire una partita importante come quella del bilancio nel Comune di Salerno, che non è una partita strettamente e freddamente di gestione semplice, è una cosa complessa e credo che il dottore della Greca saprà svolgere, come ha fatto per il passato, ma ora ancora di più, con grande acribia e acume il suo ruolo. Classe 1950, dottore commercialista in pensione, della Greca è stato per anni responsabile del settore ragioneria del Comune di Salerno. Stamattina sono stato già all'ufficio ragioneria, quindi mi sono fatto consegnare un po' tutta la documentazione del bilancio che dovrò guardarmi in questi giorni per portarlo in commissione e poi al Consiglio Comunale, quindi operativo al 100%. Ci ho lavorato solo 40 anni, quindi ovviamente il palazzo di città è stato la mia seconda casa, quindi qua ho conosciuto mia moglie, qua ho vissuto momenti molto belli, anche qualche momento un po' drammatico, parecchio drammatico, però ovviamente ho tanti amici tra i dipendenti, tra il mio ufficio, quindi 40 anni non sono pochi, quindi ho lasciato tanti ricordi. Per me è un onore ritornare al Comune di Salerno. Le preoccupazioni ovviamente ci sono, però lavorando io sono fiducioso che le cose si possano affrontare, si possono risolvere. Io voglio solo aggiungere che, come giustamente ha detto il sindaco, è una nomina tecnica, io sarò un assessore tecnico, quindi ovviamente l'attimo in cui verrà meno l'esigenza di un tecnico, io immediatamente farò un passo indietro, quindi da questo punto di vista nessuna preoccupazione, non ho nessuna intenzione di svolgere ruoli politici.